Battipaglia Ente d'Ambito, consulenza organizzativa al dottore Carmine De Blasio. Continua l'organizzazione del nuovo Ente d'Ambito presieduto dal comune di Battipaglia e partecipato da Bellizzi e Olevano sul Tusciano. Probabilmente a breve i tre enti comunali saranno autonomi rispetto al comune di Ponte Cagnano-Faiano. Manca l'ultimo passaggio, ossia l'ufficio d'Ambito si dovrà affiancare ad un professionista esperto del settore. Nello specifico l'attenzione è stata rivolta verso il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 all'interno del quale risultano consorziati circa 30 comuni irpini. La volontà del nuovo Ente d'Ambito è quella di avvalersi della consulenza del Direttore Generale del Consorzio come riporto il mattino il dottor Carmine De Blasio che avrebbe manifestato anche la propria disponibilità e pare abbia ottenuto l'autorizzazione. Il dottore Carmine De Blasio dovrebbe quindi offrire i propri servizi di consulenza basandosi sulla comprovata esperienza per circa sei mesi. L'ente d'Ambito ha deciso di destinare all'incarico la somma di 12.000 euro a cui si aggiungerà eventualmente una somma di 1.500 euro come rimborso forfettario per le spese rendi contate. In questo modo però le amministrazioni dei tre comuni auspicano di dare seguito alle attività propedeutiche all'avvio del nuovo Ente che si dovrà occupare di offrire i servizi ad un bacino di oltre 60.000 abitanti nell'ambito dei servizi sociali. Insomma un primo passo concreto adesso occorre stringere i tempi ed avere l'autonomia nei tre comuni.